Rieccoci a Primo Sinterpares, appuntamento al mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto ricordo ci facciamo anche la pubblicità che siamo diretti anche su una pagina Facebook, ospite il professor Gino Gerosa, direttore del centro di cardiocirurgia Vincenzo Gallucci dell'azienda ospedaliera di Padova. È una chiacchierata davvero, io mi autoinvidio perché avere la fortuna di ascoltare il professor Gino Gerosa, mi affascina che dimentico le domande, anche non è molto professionale, però lo ascolto con molto piacere e scopro in ogni suo ragionamento che fa appunto di intervento, di avere delle curiosità a me sconosciute, questa è la cosa, mi fa molto piacere. Lei ha fatto che è un libro, giusto? Il libro Altro Cuore. Caspina, mi ha detto nel pensiero, poi ve lo suggerire di citare il libro che è l'altro cuore. Abbiamo un'empatia, abbiamo un'empatia. È un libro scritto da tutto il team, l'abbiamo fatto credo per l'occasione del... Eccolo lì, vedo la copertina. Vite professionali, storie dei pazienti e scienza in cardiocirurgia. Credo fosse il trentesimo anniversario del primo trapianto di cuore, in occasione del trentesimo anniversario. Chiesi a tutti i miei colleghi, a ognuno di loro, di scrivere un capitolo legato alle diverse tecniche chirurgiche, quindi la riverscolizzazione miocardica, piuttosto che gli interventi di sostituzione valvolare, piuttosto che il trapianto di cuore. Ma chiesi a loro di essere estremamente scientifici... Lo so, è stato poco pubblicizzato questo libro qui da parte sua, le faccio questa colpa, perché meriterebbe un po' più... Se lo lasciamo, anzi potete acquistarlo, potete... È pubblicato da Padua, da University Press, quindi da lente... Devo chiamarlo in università o poi prenotarlo in libreria, giusto? Sì, prenotarlo in libreria o sulla pagina... E dovrei un po' pubblicizzarlo, un po' di più, perché... Sì, perché anche il titolo, adesso vengo alla struttura del libro, quindi chiesi ai miei colleghi di scrivere un capitolo che deve essere assolutamente scientifico, ma che deve essere carico di empatia e quindi parlare anche dei pazienti. E l'altro cuore, il titolo volutamente è chiamato l'altro cuore, perché non è solamente il cuore ammalato che ripariamo, o il cuore che sostituiamo, ma è il cuore anche dei medici e degli infermieri che si prendono cura dei cuori ammalati. Quindi è l'altro cuore in senso proprio, come dire, a spettro amplissimo. Senta, il cuore ha un periodo dell'anno... Ultimamente leggo sui giornali, molte persone da 40 anni, 42 anni, 50 anni hanno subito un infarto senza aver mai avuto patologie. È un periodo dell'anno dove la primavera incide oppure è indifferente qualsiasi giorno dell'anno per quanto riguarda... Sostanzialmente non c'è un momento, sicuramente possiamo assistere a fenomeni legati a eventi festeggiati in maniera importante. Naturalmente sono condizioni di stress a quale sottoponiamo il nostro cuore. Ad esempio, il fatto che ci sia un periodo dell'anno... Sì, dunque tutto il periodo dell'anno è in influenti, insomma, la stagione, l'estate. Per esempio, io le dico questo perché ci raccontavano, la polizia ci raccontava, che la maggior parte di persone che si uccidono è la primavera, quando arriva... Beh, questo sì, perché... Ci ha spiegato anche perché adesso non lo ricordo, però la domanda mi è venuta proprio per questo motivo. No, dobbiamo prenderci cura del nostro cuore tutto l'anno, perché non dobbiamo prenderci cura solamente in momenti limitati dell'anno, perché ogni giorno dell'anno potrebbe essere, come dire, quello in cui paghiamo lo scotto dei nostri comportamenti adeguati. Senta, lei ha fatto molti interventi, ha fatto molti trappianti. Ovviamente io presumo che tutti quelli che sono dati a buon fine le abbiano dato una bella soddisfazione, ma tra tutti questi che le ha dato una soddisfazione, perché l'importante è che poi il paziente stia bene, c'è qualcuno che ricorda particolarmente un aneddoto tra questi che ha operato, che ha subito un trappianto da parte e che l'ha fatto lei, insomma? Allora, purtroppo ci si ricorda e ci restano impressi molto di più i casi che non sono stati coronati da successo. Pazienti in cui purtroppo il nostro intervento non è andato a buon fine e si è risolto con la morte del paziente. Magari in storie di pazienti che avevano seguito a lungo, che magari sono stati operati ripetutamente al cuore. Nel libro L'altro cuore faccio riferimento a un caso del genere. Quindi questi si ricordano molto di più le sconfitte, devo dire, che le vittorie. Perché la vittoria, cioè l'intervento che va bene, quello che hai citato precedentemente, del testimonio di Giova rifiutato da molti ospedali italiani, che noi invece abbiamo accolto a Padova, l'abbiamo operato e fortunatamente è andato tutto per il meglio. Sì, c'è la gioia immediata del fatto di riconoscere, di aver avuto ragione nell'applicare quella tecnica, nel seguire quella strategia chirurgica, ma vale lo spazio di un momento quella gioia. Mentre la perdita di un paziente è qualcosa che ti resta dentro e che è difficile poi dimenticare. Senta, lei ha detto che ha uno staff di 200 persone. Fate dei briefi, cioè vi trovate, parlate tutti insieme? Beh, ad esempio tra i cardiochirurghi e anche il personale infermieristico, tutte le mattine abbiamo un meeting alle 7 e 3 quarti, ogni mattina, dove discutiamo i casi che verranno operati durante la giornata. Vengono presentati i casi più complessi, in cui bisogna ancora decidere se operare o meno, in modo tale che tutta l'equipa è messa al corrente delle strategie che verranno adottate. Quindi anche la sua presenza, visto come organizzato, non è necessaria in certi mattini? Se vuole andare in ferie, vuole dire, può andare anche in ferie, no? Certo, la presenza non è necessaria perché il sistema va avanti indipendentemente da noi, fortunatamente. Però credo che la mia presenza sia fondamentale perché alle 7.45 della mattina, naturalmente, visto che poi molti di loro si fermeranno a lavorare ulteriormente nelle ore successive, uno potrebbe arrivare anche più in ritardo, quindi bisogna garantire con la propria presenza il fatto di dare un esempio. Adesso forse è un po' desueto usare una parola di questo tipo, ma credo che chi ha il vertice deve dare l'esempio ai propri colleghi e ai propri collaboratori. È stato chiarissimo. Senta, ovviamente interessa più la politica, però interessa anche lei che ci lavora. Finalmente si farà questo ospedale, arriverà fra dieci anni, però finalmente… Ecco, mi ha detto nel pensiero, perché ho organizzato un convegno che… Guardi, lo pubblicizzo adesso per la prima volta, perché non hanno stato… E noi ne siamo fieri di questo. Un convegno alla fine di maggio, proprio sul nuovo ospedale, il cui titolo è in 15 mesi, non in 15 anni. Sarebbe bello. Ma questo non riguarda solamente l'ospedale di Padova, riguarda, torna a quello che dicevo prima in riferimento alla ricerca, che ci sono molti di quei lacci, i lacciuoli, la burocrazia, che ingessa questo paese. Tutto dovrebbe essere un attimino, puoi dire… Più dinamico, più facile. Più dinamico, sottoposto ad un controllo attento e severo. Ma lo sai cosa, professore, che tutti siamo d'accordo, anche i politici stessi, quando vengono qui. Qui ha avuto le massime espressioni, perché ogni mese viene a trovarci Zaia, il sindaco di Padova, quindi abbiamo sempre… Tutti dicono la stessa cosa, dico ma siete voi al potere, cambiate voi questa… Addirittura Salvini, che è stato mio ospite, prima di diventare ministro, diceva c'è la burocrazia, adesso che è lì, c'è la burocrazia, sistemiamola. Però è una cosa di una difficoltà inaudita, non riesco a capire perché, però qui in Italia è così. Perché? Perché il nostro è un sistema non premiale, ma sanzionatorio. Io mi diverto sempre, in tutti i consensi che mi ritrovo a parlare, dire che l'Italia, purtroppo il grosso problema d'Italia, è che è un sistema, quello del sistema italiano, che è un sistema costruito su un modello sanzionatorio non premiale. E finché non c'è questo scatto e questo cambiamento di passo nell'identificare che un sistema può funzionare se è un sistema premiale non sanzionatorio, credo che non riusciremo a venirne fuori. E quindi l'ospedale è importante per Padova? L'ospedale è fondamentale per i padovani, per i cittadini e per i pazienti della regione. Quello Padovest dovrebbe essere... Sì, appunto stavo dicendo per i cittadini, anche a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, perché come giustamente diceva prima, la competizione oggi non è con il comune di Mitrofo, ma è con l'ospedale che dista da noi centinaia di chilometri. Tra l'altro con le leggi europee che permettono giustamente la libera circolazione dei pazienti, quindi domani le potrebbe tranquillamente, anzi già oggi può farlo, andarsi a operare in un centro ospedaliero a Helsinki piuttosto che a Stoccolba, se la dovesse ritenere di trovare un servizio più adeguato e delle cure migliori, speriamo che questo avvenga al contrario e noi possiamo essere ulteriormente ancora di più motivo di richiavo per le altre partenze. Due o tre domande, professore, siete a posto con le sale operatorie, le avete a sufficienza oppure come altri chirurghi hanno delle difficoltà perché c'è quello che ne vuole una in più e quell'altro una in meno? No, non è questione di volerne una in più, è volere delle sale operatorie che siano… Perché il primario lo vuole? No, ma non è questione di avere più, voglio dire l'ospedale non è né mio né suo, l'ospedale è pubblico, l'ospedale è del contribuente che paga. Però per me è una bella cosa che un chirurgo vuole una sale operatorie perché vuol dire… No, io voglio una sale operatorie che sia attrezzata tecnologicamente al momento storico in cui sto vivendo. C'è. Adesso avremo anche le sale operatorie ibride e a quel punto saremo… Quindi non è ancora pronta. La sale operatorie ibride non l'abbiamo ancora a disposizione ma dovrebbe essere a disposizione in tempi molto molto brevi. E quindi ne sarà… A quel punto saremo al top anche dal punto di vista tecnologico. Il suo cuore funziona? Tutto bene? Il mio cuore funziona, potrei fare un gesto scaramatico che evito… Non tocchi tutto quello che deve toccare, sto scherzando. Perché di solito uno, sai, quando fa un lavoro dicono… È come il cazzolaio con il buco nelle scarpe. Un cardiochirurgo sente dei sintomi diversi dall'altro oppure lo vive come… Perché può essere che magari conoscendo benissimo il cuore prende delle paure che manano altro… Ecco, come vive? Un mio collega non più tardi di due anni fa, mio collega è cardiochirurgo, non più tardi di due anni fa si stava lavando per entrare in sala operatoria per eseguire un intervento di bypass orto-coronarico e un'ora dopo era sul lettino della sala di immunodinamica dove stava ricevendo uno stent per dilattare la sua coronaria perché stava per avere un infarto acuto. Quindi il cuore del cardiochirurgo si ammala… Ma il suo se lo sente bene, voglio dire, perché lunga vita… La ringrazio, ecco la prendo da questo punto di vista. Solo da questo punto di vista, ovviamente stavo scherzando se abbiamo fatto la conclusione. Senta professore, sono stato davvero contento che lei sia venuto, tra tutti i libri che lei ha, davvero ho capito tante belle cose, non avevo dubbi sulla qualità della sanità veneta e soprattutto quella padovana e soprattutto anche nella sua, davvero grazie di essere stato con noi. Grazie a lei. E io invece do appuntamento mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primo Center Paris. Buonanotte.